12 dicembre giovedì, buongiorno, ben trovati dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Donato Mignogna. La criminalità legata allo spaccio di droga è ormai una realtà in Molise e bisogna prendere provvedimenti per contrastarla e puntare alla prevenzione. Questo il messaggio del convegno mafia e droga in Molise che si è tenuto all'Università del Molise dove è stato presentato anche il report per gli anni 2018-2019. Per noi c'era Marta Martino. Vediamo. In Molise il 10% della popolazione adulta fa uso quotidiano di cocaina. La notizia rimbalzata sui media qualche tempo fa ha suscitato sorpresa tra la gente comune, ma non certo tra gli addetti ai lavori come gli operatori deserti, le forze dell'ordine e la magistratura. E alla cocaina va aggiunta l'eroina, gli oppiaci, le droghe sintetiche. Continuare a pensare alla ventesima regione d'Italia come a un'isola felice e avulsa dalla realtà nazionale non è più possibile. I problemi ci sono e l'aumento di numeri legati allo spaccio e al consumo di droga non sono una percezione sociale, corrispondono alla realtà. Il fenomeno esiste. Sempre più molisani, soprattutto giovani, consumano sostanze stupefacenti e già questo dovrebbe far riflettere. Ma se si pensa che dietro allo spaccio c'è criminalità organizzata e mafia, allora la necessità di reagire e prendere provvedimenti diventa urgente. E proprio su tale necessità si è focalizzato l'incontro all'Università degli Studi del Molise. Vi è consapevolezza dell'insufficienza della risposta giudiziaria. Oggi, ancor più che nel passato, è necessario parlare. È necessaria una sensibilizzazione culturale per fare una vera cultura della prevenzione, che è la sola cultura vincente, che è la sola strada vincente nella lotta contro il traffico delle sostanze stupefacenti e contro le infiltrazioni mafiose sul nostro territorio. Un territorio che invece tradizionalmente è avulso da contaminazioni di tipo criminale. Oggi è necessario, a partire dalle scuole, a partire dalle giovanissime generazioni, che vi sia la consapevolezza che il fenomeno droga è un fenomeno mortale, è un fenomeno che può uccidere la nostra società e la risposta giudiziaria va relegata a quello che è l'ambito suo proprio, che è della patologia, della devianza e non della normalità. Se riportiamo le parole del procuratore distrettuale antimafia, cambia il titolo del report, lo chiama appunto mafia e droghe, due punti, una battaglia persa. E quindi questo ovviamente non vuole essere un pessimismo assoluto, come del resto ha spiegato anche lui, però il problema c'è, esiste, è abbastanza grave, il mercato da quello che abbiamo potuto rilevare noi è in continuo aumento, la cocaina svolge un ruolo predominante, è tornata la prima droga non solo in Molise ma credo in Europa e c'è il ritorno a una droga che ormai era dimenticata, che appunto è l'eroina, sono tornate le siringhe, si è abbassato il livello di accesso alle sostanze stupefacenti, adesso dai 9 ai 10 anni si cominciano già a provare le prime droghe leggere, quindi direi che c'è da preoccuparsi. Il Molise è al quarto posto in Italia per numero di accessi al CERT con 2300 pazienti in trattamento e ad essere attratti dalle droghe sono anche i minorenni, per cui fondamentale sarebbe fare un'efficace opera di prevenzione nelle scuole, demotivare i ragazzi significa anche togliere mercato agli spacciatori e alla criminalità. Dottore, la percezione sociale è che i fenomeni legati alla tossicodipendenza in Molise sia in aumento e anche la criminalità legata alla tossicodipendenza sia in aumento, è una percezione sbagliata o è reale? È una percezione corretta ma sottodimensionata, nel senso che l'attività che svolge la DDA ci permette di dire adesso, quello che magari un anno, un anno e mezzo fa non potevamo dire, che il livello è superiore a quello che viene percepito. Criminalità che arriva dalle regioni confinanti? Sì, che arriva è la parte negativa e che rimane, perché fin dando che arriva e se ne va può commettere dei reati, viceversa nel momento in cui inizia, come sta succedendo, a restare, a restare sul posto, a guardarsi intorno, il problema diventa naturalmente più preoccupante. Io penso che magari non nell'immediatezza ma nel futuro qualche risultato si potrà portare a casa, resto dall'avviso, come ho detto qui, che a mio modo di vedere se si cancellasse l'uso del contante e quindi si andasse, penso che il futuro delle società civili sarà questo, verso un societato che il contante non esiste, anche se so che ci sono delle difficoltà delle rembore, ma nel contrasto a questo tipo di reati sarebbe decisivo perché lei può ben immaginare lo spaccio non avrebbe più soldi contanti, il grande trasporto di droga non ci sarebbero i contanti che passano, sarebbe tracciabile ogni passaggio di denaro. Cambiamo argomento, il portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle Fabrizio Ortis ha incontrato i funzionari del Ministero del Lavoro. Insieme al portavoce in Consiglio regionale Valerio Fontana è portavoce al Comune di Termoli Antonio Bovio e Daniela De Caro. Al sindaco del Comune Adriatico Francesco Roberti è una delegazione delle maestranze per rappresentare la situazione drammatica in cui versano gli ex lavoratori dello zuccherificio. Esaurito ormai gli ammortizzatori sociali, ha spiegato Ortis, sono rimasti senza alcuna garanzia per il futuro e a poche settimane dal Natale. Nei loro confronti avrebbe già dovuto attivarsi la regione di cui lo zuccherificio è un'azienda partecipata al 100%, ma a tutt'oggi nessuna politica attiva del lavoro è stata attivata in loro favore. Queste persone, ha concluso Ortis, con grande dignità chiedono lavoro, non assistenzialismo. Di qui la nostra forza nel far breccia con gli interlocutori ministeriali che grande disponibilità hanno mostrato verso l'ennesima delicata avvertenza proveniente dal Molise. Adesso una bella notizia, la civiltà della transumanza è stata dichiarata patrimonio della cultura immateriale dell'umanità. La decisione, particolarmente attesa in Molise, è arrivata da Bogotà dove si è riunito il comitato intergovernativo dell'UNESCO. La commozione è la soddisfazione della famiglia Colantuono di Frosolone che continua a portare avanti con tenacia l'antica tradizione. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. La notizia è arrivata da Bogotà dove si è riunito il comitato intergovernativo dell'UNESCO. La transumanza è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La candidatura della transumanza, che ha visto l'Italia capofila di un'alleanza con Grecia e Austria, è stata avanzata nel 2017 per tutelare una pratica ancora oggi molto diffusa sia nel centro-sud Italia, dove sono localizzati i reggi tratturi partendo da Amatrice, Ceccano nel Lazio, ad Aversa degli Abruzzi e Pesco Costanzo in Abruzzo, da Frosolone in Molise al Gargano in Puglia. Una notizia particolarmente attesa in Molise dove l'antica pratica rappresenta un elemento caratterizzante della cultura e della storia della regione. Una tradizione che continua a vivere grazie alla determinazione della famiglia Colantuono di Frosolone e che ha portato l'immagine del Molise fuori dai confini regionali. Soddisfazione è stata espressa dalla Col di Retti e dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Come ha evidenziato l'UNESCO nella sua motivazione, ha spiegato, la pratica della transumanza rispettosa del benessere animale e dei ritmi delle stagioni è un esempio straordinario di approccio sostenibile per affrontare le sfide poste della globalizzazione. Pronti sei milioni per supportare i territori siti dell'UNESCO, ha concluso il Ministro. Per il Molise si aprono dunque nuove importanti prospettive di sviluppo che vanno ad aggiungersi a quelle previste dal contratto istituzionale di sviluppo che, proprio in favore della valorizzazione dei tratturi e quindi della transumanza, ha stanziato 129 milioni di euro. Fondi che finanzieranno il progetto che vede Campo di Pietra, il Comune Capofila e al quale ha aderito anche quello di Campobasso. La soddisfazione è tanta, siamo tutti emozionati, vediamo parte dei nostri sacrifici ripagati. Il commento è della famiglia Colantuono di Acquevive di Frosolone, custodi secolari della transumanza. Carmelina Colantuono ha seguito l'iter della candidatura dal primo giorno. Dieci anni fa a Campobasso ne abbiamo parlato per la prima volta, ha detto. Poi, un passo dopo l'altro, e con il supporto di tanti territori italiani, paesi europei e un pool di esperti coordinato dal professor Pierluigi Petrillo, si è arrivati a Parigi per formalizzare la richiesta di candidatura ufficiale. Con Nicola Di Niro, direttore di Asvir Moliga, l'ha proseguito, abbiamo fatto il possibile per regalare questa gioia alla pratica della transumanza e al Molise. L'impresa è stata possibile solo grazie al partenariato che ha coinvolto tanti territori italiani, dalle Alpi al Meridione, che condividono con noi la pratica della transumanza. Senza unità di intenti non avremmo mai ottenuto questo risultato. Ringraziamo perciò tutti quelli che ci sono stati vicini. Ha concluso, emozionata, la Colantuono. È tutto, tutto per questa prima edizione del Tg. Adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Il giornale del Molise.it apre con la notizia che riguarda la transumanza. L'UNESCO, dunque, la transumanza è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. L'articolo è firmato da Anna Maria Di Matteo. Vediamo anche le altre notizie. Centrale Biogas in Alto Molise secconò del comune di Belmonte del Sannio. A Termoli adesso abbandonano i rifiuti individuati e multati grazie alle fototrappole della polizia locale. Restiamo sempre nella città adriatica, arrestata giovane coppia per spaccio di droga in casa. I carabinieri aumentano i controlli. Le altre notizie si continuano a parlare di sanità. Due richieste dalla politica, superare il commissariamento e via il decreto Balduzzi. Tra nonno gelo e babbo natale, scambio culturale tra bambini russi e i sernini. Si parla anche del concorso Rai, dei giornalisti Rai. Il caso finisce in CDA. A Montelongo adesso il pane dell'Immacolata custodisce l'identità del paese. In basso, nella sezione editoriale Idee ed Opinioni, vi segnalo un articolo a firma di Angelo Persichilli che riguarda Facebook. Una lettera aperta a un amico, al dottor Carlo Musenga. Caro Carlo, non mollare, si riferisce appunto a Facebook. Siamo ora su primo piano, anche qui l'apertura sulla transumanza, patrimonio culturale dell'UNESCO. Gioia immensa per il Molise. La decisione a Bogotà, la famiglia Colantuono, premiato il nostro impegno, è quello dei pastori. Dai ministri Belanova e Costa al governatore Toma e a Coldiretti, esultano tutti. Grande occasione per lo sviluppo del territorio, è stato detto. E qui vedete questa bella foto con un'immagine appunto della transumanza. Nella rubrica Il punto, un articolo a firma di Michele Messere, sardine contro tartarughine, il paradosso della tolleranza. Un dichiamo che riguarda i trasporti, stoppa le tessere, i disabili pagano il bus per le corse extraurbane. Sanità, il governatore Toma non molla. Deroghe al Balduzzi e presidenti commissari, altrimenti salta il patto, cioè non arriverà l'intesa da parte del Molise. A Pozziglia adesso l'Unilever assicura che non delocalizzerà, ma non smentisce la chiusura. Nei richiami di spalla, si parla del report, mafia, mafia e droga, i loschi affari della criminalità organizzata in Molise. Ricorderete la vicenda dell'ascensore bloccato? Bene, è stato collaudato, siamo a Ripolle di Mossani, Michele è felice, ora può uscire di casa. Cattedrale, quella di Campobasso, Misteri e Biblioteca Albino, il sindaco Gravina a colloquio con il ministro Franceschini. Da Boiano invece, questa notizia curiosa, Vitellino a spasso per le contrade, cercasi proprietario. In alto le notizie dello sport, Campobasso, Pizzutelli lascia il rosso-blu, pressing sul centrocampista. Esposito, il Vasto Girardi intanto in arrivo, il classe 1999 Bruni dal Chieti, mercato aperto. Infine la Coppa Italia regionale, il Campo di Pietra mette un'ipoteca sulla finale. Torniamo sul web con futuro Molise, in primo piano la sanità, i lavori del Consiglio regionale, pieno sostegno a Toma, scrive il quotidiano telematico. A Pozziglia adesso Unilever non esiste alcun piano di delocalizzazione. La cronaca allarme furti a Venafro, i cittadini scrivono una lettera al prefetto Cinzia Guercio. E anche qui la notizia che riguarda la transumanza patrimonio culturale dell'UNESCO. Ci spostiamo adesso sui quotidiani nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera. Alta tensione sui ribelli del Movimento 5 Stelle. Di Maio accusa la Lega e dice mercato delle vacche in aula. Sul salva stati arriva il sì alla risoluzione, ma intanto quattro senatori e cinque stelle votano contro. Ma la maggioranza tiene. Sulla questione Ilva, Mittal annuncia 3.500 in cassa integrazione. Sulla sinistra, Cartabia, al vertice della consulta. Io, donna, apri la pista, eletta la nuova presidente per la prima volta. Dunque una donna a centro pagina, la memoria di quei 17 volti, il giorno di Piazza Fontana. Le celebrazioni per i 50 anni della strage. Mattarella sarà a Milano. Uno sguardo adesso a Repubblica, che titola così in apertura. Passa il salva stati, dunque arriva il salva governo, titolo di apertura. Lo scontro nel Movimento 5 Stelle non ferma la maggioranza. Tre senatori grillini verso la Lega. Di Maio, mercato delle vacche, dice, intanto sulla manovra, fino a 400 euro per il latte artificiale dei neonati. Bonus anche per gli asili nido. Questo è quanto in manovra. Conte, e ora andiamo avanti, spediti. La foto di due donne, direi vero una ragazza, che è Greta Thunberg, l'anno verde di Greta. E' stata dichiarata personaggio dell'anno dal Time. Anche qui si parla di Marta Cartabia, prima donna al vertice della consulta. Chiudiamo Repubblica, passiamo sul quotidiano torinese. La stampa, i fondi verdi dell'Unione Europea per salvare l'Ilva. Il piano di Conte prevede tre mosse. Mittal resta, un ruolo per lo Stato e il rilancio Green. Tegole intanto sulla trattativa con l'esecutivo, 3.500 in cassa dopo lo spegnimento dell'Alto Forno numero 2. Grande foto, quasi tutta la prima pagina viene assorbita da queste foto. Nel giorno delle donne, Cartabia, prima presidente della Corte Costituzionale. La vediamo qui sulla sinistra. Intanto Greta e la sua battaglia per un mondo più pulito sulla copertina di Time. E infine cade un altro tabù, le atlete diventano professioniste, si parla delle calciatrici. Adesso il sole 24 ore, partite IVA e flat tax nel mirino del fisco. Ecco arrivo i nuovi controlli, tanto attenzione puntata sui crediti ricerca e sviluppo e sul bonus degli 80 euro. Chiudiamo anche il quotidiano economico e finanziario per passare a Libero che scrive così Presidente non se ne può più, se Mattarella vuole ci fa votare subito. E aggiunge l'articolo 88 della Costituzione concede al Quirinale la facoltà di sciogliere le camere. Unica via per sbloccare l'Italia in panne. E nel sommario aggiunge il Movimento 5 Stelle perde pezzi in Senato, governo in ansia. Anche qui Centropagina diventa capa della consulta senza bisogno di quote rosa. Chiedo scusa, Cartabia guiderà la Corte Costituzionale. E poi aggiunge sulla destra qui la regina degli incompetenti, nominata persona dell'anno. Pazzesco, scrive Libero la rivista Time, premia Greta, comunque molto critico, Libero su questa decisione di Time. Il messaggero, sì al Salva Stati, Movimento 5 Stelle a pezzi, passa la risoluzione sul Salva Stati appunto al Senato con 165 sì, ma 4 grillini non votano. A Centropagina, una donna sulla cima della consulta, abbiamo visto il voglio di spalle, dramma oltre i rifiuti, ucciso sulle strisce da un camion dell'Ama. Siamo a Roma, pensionato, travolto, mentre attraversa. L'autista dice non l'ho visto e poi il messaggero approfondisce il caso sugli spazzini alla guida. Ci spostiamo su Avvenire, in alto, un passo sulla Luna, una frase virgolettata, poi vediamo appunto perché spieghiamo questo titolo, l'Unione Europea punta sullo sviluppo sostenibile. Fonderlein, questa frase di Fonderlein, lancia il cosiddetto piano verde. Costa, ministro Costa, l'Italia è pronta, ma gli Stati sono già divisi sull'obiettivo chiave della neutralità di emissioni. A centropagina sulla Salva Stati, in mess al guado, un gioco di parole nel titolo di Avvenire, passa la mozione di maggioranza, ma il Movimento 5 Stelle si spacca. Uno sguardo al mattino, ok al Salva Stati, rissa nel Movimento 5 Stelle, ma in alto si parla del Napoli. Parte il Napoli di Gattuso, squadra perfetta, dice per me è perfetta, testa bassa adesso e lavorare. Il manifesto, un miraggio verde, foto della Fonderlein, il Green Deal è il nostro uomo sulla luna, detto. La commissaria UE lancia un patto verde da 260 miliardi all'anno, ma i buoni, benché tiepidi, propositi per la neutralità climatica entro il 2050, si scontrano con l'assenza di finanziamenti e l'opposizione di alcuni Stati. A Madrid, la Coppa 25 verso la conclusione in salita. Dal manifesto al tempo, Roma fa schifo, secco titolo, vediamo perché, secondo il quotidiano della Capitale, bocciatura dell'autorità di controllo. Dunque, la città è una discarica a cielo aperto, l'Atac perde 4 mila corse al giorno, disastro anche su buche, verde e cimiteri. Situazione non certo edificante per Roma. La verità, titolo così in apertura, in ginocchio da Bruxelles, sul MES i grillini perdono la faccia e i pezzi. L'attaccamento alla poltrona induce il movimento a rinnegare se stesso e a consegnare l'Italia alla nuova trappola messa a punto da Merkel e company. Ma 4 senatori 5 stelle votano no e fanno paura al governo. Grande foto, Fioramonti, ministro dell'istruzione, sulle orme del bullo, scrive la verità. 3 miliardi sulla scuola o mi dimetto, avrebbe detto, ottiene 31 milioni e resta lì. In basso, Ilva, il giudice, cancella altri 3.500 operai, altri effetti dell'idiozia sullo scudo penale. Corsa contro il tempo, dunque, per evitare di spegnere l'alto forno. Ci spostiamo sul secolo.it, in alto un'apertura, bella ciao sotto l'albero e vediamo in alto due foto. A sinistra speculano anche sulla festa del Natale, scrive il quotidiano di Storace. Del resto, se l'esempio viene da Don Biancalani, puntini di sospensione. Poi ci sono dei sondaggi super, sono super per Fratelli d'Italia, Meloni sempre sopra il 10%. E adesso lo sport sulla gazzetta che dedica l'apertura all'Atalanta. Mitica Dea, siamo in Champions, impresa dell'Atalanta che va agli ottavi. Fa la storia in Ucraina dominando lo Shakhtar per 3 a 0. Gasp dei miracoli, Gasperini dice questa è la vittoria del calcio italiano. Poi si parla chiaramente anche della Juve, il tridente va Cristiano Ronaldo e il Pipita. In gol batte il Leverkusen e chiude il girone a quota 16. Di Bala entra e scatena Ronaldo e Higuain. In alto l'Inter batte i primi colpi, calcio mercato, Kulusevski e Marcos Alonso a gennaio. Sulla destra invece Napoli e Corino. Gattuso si presenta, dice una grande opportunità, recupereremo terreno. Ho parlato con Ancelotti e mi sono chiarito. Bene, come sempre con lo sport, terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie, grazie per essere stati con noi. Alle 14 la seconda edizione del TG. Arrivederci. Grazie.